Emergenza, criminalità, sicurezza e ordine pubblico. Questo è il tema della seduta straordinaria monotematica convocata per questo pomeriggio in seguito alle raffiche di mitra, bombe e agguati che hanno sconvolto il capoluogo. Il dibattito sarà preceduto dalle interrogazioni. Prima TV a partire dalle 17.15 trasmetterà in diretta i lavori del Consiglio Comunale di Avellino sul canale 90 del Digitale Terrestre in streaming su PrimaTV.it e le pagine Facebook di PrimaTV e Telenostra. Alla vigilia del Consiglio ha rilanciato l'invito ad allargare alle parti sociali il tema sicurezza. Il segretario provinciale della Willer, Piniassagno, Luigi Simeone, che in vista dei finanziamenti di cui sarà destinatario il comune capoluogo auspica la firma di un protocollo d'intesa sulla legalità. Ma è chiaro che laddove ci sono investimenti, laddove ci sono soldi da spendere, il rischio esiste. Altre cose, il protocollo che stavamo approntando con Foti era proprio destinato a blindare o comunque ad attenzionare tutte le forze sane della città proprio sulla spesa che riguardava l'area comunale che era stata già interessata da investimenti per le città urbane. Penso che questo sia ancora all'ordine del giorno e non per strumentalizzare quello che è successo ma proprio perché dobbiamo tenere alta l'attenzione per evitare che esistano questi episodi micro ma anche quelli un po' più grandi. Ma non è tutto, approfondiremo il tema sicurezza stasera a partire dalle 22 quando ricomincerà la stagione di Studio Sera al Via con lo speciale dedicato alla cronaca ospiti di Norberto Vitale, Geppino, Giacobbe, Gianni Festa e Francesco Iandolo. Studio Sera ritornerà con un secondo appuntamento settimanale dedicato alla politica tutti i venerdì alle 21 sempre sul Canale 90.